Ciao a tutti. Oggi voglio un attimo parlarvi di un mio normale lunedì mattina. In realtà vi parlavo il lunedì da due settimane fa, che infatti è come il tipico lunedì mattina. Poiché mi piace molto molto guardare il calcio, mi sono svegliato molto molto presto, circa alle 5 di mattina. Ho visto un po' della partita di calcio tra Manchester United e Arsenal. La partita è finita uno a uno. Poi ho anche fatto colazione molto molto presto, circa alle 5 e mezzo. Ho mangiato i cereali. Poi ho mangiato il pane con maiele. Il maiele dietro il pane. Poi ho visto un po' di YouTube. Ho bevuto una lattina di caffè, perché mi piace molto bere caffè la mattina. Alle 7 e 10 ho portato mio figlio a scuola. Ci vuole molto tempo per arrivarci. Circa 35 minuti nell'autobus. Dopo averlo lasciato ho preso il treno per casa. Sono andato, sono arrivato a casa circa alle 8 e 40. Mia figlia stava ancora dormendo. Perché perché era andata a letto tardi la sera la sera precedente. Ok, grazie, grazie a tutti. See you baby cakes. Bye bye.